Bel modello eh? E anche la ragazza niente male. Dante Parisi, rappresentante club per tutta la zona. Ma avevamo l'appuntamento alle 15? Ah ma adesso c'è la festa, scusi. E poi volevo dare un'occhiata al palazzo. Eh, roba interessante, imponente. Uno scatolone pieno di femmine. Dio 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 che caldo che fa. Ah, è certo che dirigere un harem grande come questo non è facile eh? Si fa quel che si può. I direttori dovrebbero essere tutti come lei, dotati e competenti. Bravo, perché non mi offro un paio di pire? Sa che le dico? Io sono convinto che noi due ci intenderemo. Vero? Se lo dice lei. Sì! Cos'è che ha permesso 40 anni di pace, di benessere, di coesistenza tra i popoli più diversi? Cos'è? Che riesce ancora oggi a far superare le barriere ideologiche, religiose, linguistiche? Cos'è? Che riesce ancora oggi? Grazie.